What's up guys, con questa maglietta bella stropicciata vi do il benvenuto in uno studio con una cosa in più ovvero questa poltrona che non so se vedete ma l'ho presa perché secondo me era molto carina, molto più informale come se stessimo facendo una chiacchierata tra di noi che ci siamo lì in un salottino e parliamo così molto tranquillamente quindi oggi ho intenzione di parlarvi appunto molto tranquillamente di che cosa? della ricezione, che è una cosa che sto un pochino riscoprendo e sto un pochino avanzando diciamo nelle mie competenze pallavolistiche se così si può dire microfono prova, ok sta funzionando per sicurezza che sennò faccio tutto un video in cui ci sono io che faccio il muto in ogni caso ragazzi sono tornato in allenamento davvero da poco e adesso è sabato sera sto per uscire e infatti è tipo un video fatto molto rapidamente perché voglio andare a fare un po' di serata perché è anche giusto a fine settimana e ho deciso di parlarvi un po' di ricezione questo perché oggi mi sono allenato e ho riscontrato uno step in più di me stesso nella ricezione e ho capito qualche cosa nuova, qualche nuovo trucco per ricevere meglio ovviamente non mi sta parlando una persona che in ricezione è pazzesca non mi sta parlando una persona che è quindi il libro della nazionale però pian piano sto mettendo sempre più competenza, sto mettendo sempre più livello alla mia ricezione e sto capendo cose nuove questo perché non avevo proprio fino a non tanto tempo fa una vera e propria base in ricezione ovvero non avevo il mio modo di ricevere e adesso lo sto un po' scoprendo che secondo me non è una cosa da poco, fa tanto nella ricezione perché oltre alla tecnica che bisogna avere diciamo a livello teorico quindi mentale è importante anche trovarsi un po' un proprio modo di ricevere comunque una propria impostazione, un modo per essere comodi, per essere sicuri e per dare la palla in testa al palleggio che alla fine è quello che ci interessa in ogni caso sarà al potere di questa poltrona ma sto riuscendo a dover fare meno tagli sto facendo frasi più lunghe allora io partirei inizialmente dall'impostazione delle gambe le gambe sono le molle del nostro corpo quindi oltre che per dare la spinta alla palla servono anche da ammortizzamento o ammortizzazione come cacchio si dice servono per appoggiare questo pallone e far sì che creino un effetto molla come nella bicicletta altrimenti sarete un corpo rigido su cui rimbalza la palla e quindi un qualcosa che voi non controllerete quindi un corpo che va a toccare sul duro cosa significa? significa poco grip, poca palla nel punto in cui volete voi come sulle moto in cui l'ammortizzatore fa sì che la gomma vada a toccare terra e quindi vada a colpire bene il suolo le nostre gambe devono funzionare allo stesso modo quindi è molto importante evitare di essere o con le gambe troppo basse per dover fare una risalita esagerata che quindi ci farà muovere troppo piano ma soprattutto evitare l'errore che io tendo a fare che è quello di salire interamente con le gambe quando si va a toccare il pallone questo appunto ci renderà una superficie rigida e il pallone schizza, si sporca nonostante potete avere un buon bugger comunque una buona sensibilità di braccia sarà facile fare degli errori quindi cosa bisogna fare? allora intanto una buona posizione delle maniche potrebbe essere questa quindi non magari troppo aperte allo stesso tempo non possiamo già mettere il bugger in mano così questo penso sia abbastanza ovvio gambe piegate e bisogna andarsi a muovere cercando di anticipare la palla quindi andare verso il pallone con le gambe piegate facendo sì che quando andiamo a impattare il pallone con le braccia non facendo questo ovviamente dovremo andarlo a fare con le gambe che ancora sono in stato di compressione e poi possiamo venire su poi bisogna vedere se la battuta è molto forte questa decompressione non dovrà essere esagerata altrimenti rischiamo magari una palla nell'altro campo quindi dobbiamo avere un piano bello dritto e andarci a rimbalzare se invece la palla è molto morbida possiamo esagerare questa cosa con le gambe e addirittura se siamo sicuri e la palla è proprio morbida ce l'abbiamo lì facile possiamo forse appoggiarla un po' verso l'alto un po' come se fosse un appoggio ricezione in palleggio ragazzi invece nella pallavola attuale soprattutto maschile è un pochino da evitare a livelli dalla serie D, serie C salendo ma anche a livelli giovanili se la palla viaggia stessa cosa sicuramente anche a livello femminile diciamo che questa cosa si può applicare quando il pallone va troppo flottante verso il basso perché? perché se la traiettoria non è questa sarà pressoché impossibile essere precisi e non fallosi quando andiamo a ricevere il pallone quindi se la palla abbiamo in fronte per carità è molto meglio spingerla in palleggio in modo tale che si sia anche più precisi se invece la palla va soprattutto sul laterale è proprio una cosa da non fare andarsi a spostare palleggiando qui ci sono allenatori che fanno ricevere soltanto in palleggio e chi invece lo sconsiglia io ho provato entrambe le cose e mi sto trovando un po' nella situazione in cui il bug effettivamente bisogna averci ed è la cosa principale quando andare in palleggio invece quando la palla sta andando troppo forte quindi riusciamo a prenderla a livello della testa ma se ragazzi avete adesso esco dall'inquadratura ma se le mani sono troppo in alto potete vedere delle braccia completamente stese difficilmente se la palla sta andando dritta entrerà nel campo quindi consideriamo che se siamo con le braccia alte e siamo alti 1,80 m sui 4,5 m c'è possibilità anche che vada fuori oppure possiamo ricevere in palleggio in caso in cui sia proprio una palletta una cosa piazzata allora andiamo sotto e allora quel punto in palleggio saremo probabilmente più precisi quindi consigliatissimo che altro dire intanto adesso nella pallavola attuale quindi vi sto riportando non solo pareri miei non solo come ricevo io ma anche un po' come è raccontata la ricezione nel 2019 si tende a utilizzare tanto tanto il bagger laterale quindi buone competenze di bagger laterale individuali sono necessarie ma quindi evitiamo di andare a fare un bagger frontale su palla molto lenta si può fare quindi raggiungiamo la palla con i piedi ci mettiamo sotto e impostiamo un buon bagger ma su palloni che vanno flottanti giù è importante andare a lateralizzare quindi piuttosto ci spostiamo un po' indietro col corpo e andiamo a fare questi movimenti così verso il palleggiatore se la palla quindi ci passa a questo livello sarà pressoché impossibile ragazzi pensare di andare indietro al punto di averla in bagger frontale e darla invece no ragazzi apriamo questo braccio tra l'altro sempre tenendo conto che le braccia non devono fare questo movimento quindi non si vanno a unire sotto per andare qua ma il braccio che è laterale va ad aprirsi e l'altro lo raggiunge con un bagger che ha la spalla esterna più alta e questa cosa qui sempre con l'aiuto delle bracci, delle gambe di cui abbiamo parlato prima quindi tanto tanto lateralizzare nel caso in cui la palla sia troppo ancora laterale quindi che non sarà qui ma ancora qua sopra qua siamo un po' del gatto come dice il mio allenatore e questo cosa vuol dire che bisognerà andare ancora più dietro con le gambe quindi avremmo anticipato troppo probabilmente la palla cosa fare in questi casi? possiamo spezzarla e tenerla su comunque nel punto di campo alta per poterla lo stesso giocare senza appunto mirare alla perfezione in testa al palleggio oppure alziamo la gambetta di qua e andiamo ad aprire diciamo facendo poggiandosi su un piede solo cosiddetta aletta di pollo non so se troverò dei filmati online per farvela vedere la vedo molto molto dura e questi sono un po' di consigli per il saltoflot che a mio parere rimane ancora la battuta un po' più difficile da prendere per i primi livelli poi in serie A invece sono bravi e infatti battono tutti i salto spin che comunque è un tiro più forte consigli per il salto spin invece? allora dipende un po' dai battitori ma se sono battitori ficcanti in fondo che sono quelli un po' più difficili da ricevere quelli più cattivi si parte dai 7 metri circa anche un pochino di meno in posizione di difesa abbastanza bassa quando si va al sale il pallone facciamo un bel passo indietro e ci andiamo a mettere bassi bassi aspettando la palla proprio come una difesa a quel punto palla peso tutto in avanti aspettiamo la palla bassa e l'unica cosa che dobbiamo andare a fare è unire le braccia sotto il pallone e non spingere con le braccia altrimenti la palla schizzera sul soffitto comunque non la controlleremo il nostro piano deve essere assolutamente immobile e solo indirizzarla verso il palleggiatore mentre nel flop le gambe hanno più importanza quindi ci aiutano a spingere perché altrimenti sta palla rimane cortissima nello spin invece sarà già la potenza dell'attaccante a darci la forza per mandare la palla al palleggiatore quindi basterà tenerla quindi una specie di smorzata in modo tale da verticalizzare quindi questo pallone che sta arrivando così noi dobbiamo riverticalizzarlo verticalizzarlo senza ri peso tutto in avanti quindi se l'attaccante fa una cioppata di quelle corte che vanno circa sui 3-4 metri di solito sul salto spin abbiamo già il peso per partire a quel punto tecnica di tuffo o se possiamo evitare anche senza è sempre una difesa in pratica ricezione in palleggio sul salto spin no, non si può fare proprio se siete massimalissimo arriva una pallonata in faccia ma una ricezione in palleggio sul salto spin è impossibile non ha proprio senso e se siamo sugli 8 metri una ricezione qua sopra la testa è fuori per la palla invece battuta corta salto flotte quindi appoggi o anche magari alcuni spin una cosa che si può fare che alcuni giocatori si vengono a utilizzare è magari un ginocchio per terra questo si può fare sulla palla corta corta perché con entrambe le gambe diciamo stanno in piedi è difficile andare a verticalizzare questa palla senza farla andare nell'altro campo quindi anche un ginocchio per terra ci può stare in modo tale da essere più comodi per tirarla su verso il palleggiatore questo è un consiglio oppure anticipate davvero tanto peso del corpo un po' indietro e a quel punto è tanto tanto uso delle braccia e sensibilità personale di bugger e questi diciamo sono un po' i modi principali che si utilizzano ormai nel 2019 per ricevere se non la pensate così comunque me lo scrivete nei commenti mi dite invece secondo voi quali sono le tecniche adottate ultimamente comunque ecco non considerate che tanti giocatori di serie A non usano queste tecniche almeno la base è questa ma ci sono alcuni giocatori che hanno modi personali per ricevere ad esempio prendiamo Irvinga Pet usa molto la palla che gli arriva addosso che è una cosa ormai sconsigliata a tutti gli allenatori ragazzi club Italia nazionali cose tutti insegnano che la palla deve essere fuori dal corpo non che ci deve arrivare addosso siamo noi a dover andare sul pallone invece Irvinga Pet per esempio spesso si fa colpire ma lui ha una sensibilità mostruosa di bugger ha imparato così e che gli vuoi dire riceve bene lo stesso però noi che ci alleniamo solo tre volte a settimana quattro quello che è non possiamo magari pretendere di avere tutta quella sensibilità sul pallone cioè lui ci gioca come gli pare gli può arrivare anche sulla schiena che lui si gira stack e la prende è fatto stack anche la poltrona che ha 50 anni almeno e la prende come cacchio gli pare ultimi consigli che mi sento di darvi ricezione è importante anche essere rilassati stiamo magari sui quattro metri e mezzo lì vedete un po' voi dove siete più comodi chiamatevi una zona di conflitto per evitare di sbattere dentro quindi solitamente si utilizza che quando la banda quindi il posto 4 in prima linea quindi riceve in posto 5 il punto di conflitto è sinistra così che si alleggerisca il giocatore di prima linea e generalmente si gioca così quasi in tutte le squadre e poi invece verso destra quando saremo in P1 con l'S1 che deve ricevere questo vuol dire che l'attaccante in banda S1 anche lì lo andremo ad alleggerire alla ricezione quindi andando a ricevere a destra adesso gli schemi della ricezione sono molto più complessi e da spiegare a voce penso siano un po' difficili comunque è importante chiamarsi una propria competenza e andare quindi nelle zone che sono appunto le nostre possibilmente se si è un libero e si vuole fare di più per la propria squadra se si sente sicuri in ricezione sarebbe bene tenersi entrambe le zone di conflitto però su questo ci si può anche lavorare comunque è un concetto un po' di squadra che deve stabilire l'allenatore più che un consigliere esterno come sono io per la ricezione quindi ragazzi sereni braccia morbide ci mettiamo lì aspettiamo la nostra ricezione gambe ta 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 pronti con le gambe andiamo indietro andiamo a raggiungere il pallone noi non facendoci colpire e mandiamo la palla verso il palleggiatore con la voglia di mandarla nelle mani piuttosto in allenamento come appunto mi sta dicendo anche ogni giorno l'allenatore sbagliamo con una palla che va nell'altro campo quindi regaliamo una palla slash piuttosto che staccare troppo le ricezioni poi pian piano ci si lavora e la mettiamo in campo altra cosa forse scontata da dire non ci abbattiamo se non vengono se prendiamo un ace dobbiamo altamente fregarcene e non ho detto un'altra parola perché stava un po' male comunque bisogna altamente fregarsene altrimenti la partita finisce lì e noi non battiamo non attacchiamo non palleggiamo e non lo so non mangiavo neanche la pizza dopo tra un po' perché siamo troppo incazzati quindi un ace ragazzi sì è anche un errore nostro ma anche una bravura dell'avversario non è che se abbiamo preso un ace siamo dei stronzi e devono smettere di giocare a pallavolo poi se prendiamo 4 ace precisi precisi c'è qual quadra che non cosa però bene o male ragazzi non bisogna battersi eccessivamente e evitare soprattutto questo la testa conta tanto nella ricezione quindi un consiglio che davvero davvero mi sento di dare sciolti ricezione ammorbidiamo queste spalle adesso mi sdraio anche per rendervi a sì l'idea di sciolti assolutamente bisogna ammorbidire queste spalle perché se siamo tutti rigidi e se pensiamo no no non deve colpire me speriamo che vada sul mio compagno al 80% a meno che proprio non ci rimbalza addosso e abbiamo culo la palla non andrà in testa al palleggio poi se siete dei comodini dell'ikea quindi pieni di spigoli sarà più difficile ricevere di sicuro se avete un po' di insensibilità di bugger riuscite magari anche ad aggiustare un movimento sbagliato di corpo questo sta all'esperienza ragazzi e se mi chiedete consigli io un pochino ve ne ho dati è un po' il problema di darvene però è che un po' non se ne possono dare via telecamera e senza conoscervi un po' dovrei essere lì perché ognuna ha problematiche diverse dovrei essere gabbage io ma questo escludiamolo e non sono neanche un allenatore ma soprattutto l'importante è l'allenamento ragazzi davvero se voi avete che so la palestra dentro casa vostra che siete milionari avete una palestra in casa e state lì con una persona che batte pagata tutto il giorno e fate 6 ore al giorno di ricezione a mio parere se ci diamo anche coi gomiti la palla in testa al palleggio dopo un anno che lo fai ci arriva cioè davvero impari a darci come cacchio ti pare ma visto che in palestra non ci possiamo stare 6 ore al giorno raramente bisogna un po' imparare dei modi per farlo e quindi bisogna allenarsi comunque avere della sensibilità quindi visto che conta tutto l'allenamento allenatevi ragazzi non vi si può dire altro testa andate l'allenamento con la voglia di tirar su sti palloni e non con lo scazzo oggi facciamo ricezione non attacco perché alla fine un consiglio che voglio darvi è che cercano spesso persone che sappiano ricevere ormai quante volte speciale a livello giovanile mi è capitato che si va bene attacca alto salto quello che vuoi poi ha un bugger che non si può vedere quindi ragazzi il 90% di questo video oltre ai miei consigli vuole dirvi che dovete allenarvi c'è poco da fare non c'è suggerimento che possa reggere un lecushì come si direbbe a Genova non c'è altro da fare dunque sono passati ben 18 minuti di me che vi parlo a caccia di un sacco di cose ho parato 18 minuti 18 minuti quanti sono e probabilmente vi sarete anche rotti le palle perché il problema è che questi consigli a molti di voi servono ma non agli algoritmi di youtube che non ne vogliono sapere dei miei 18 minuti in cui vi parlo assolutamente i video dovrebbero essere molto più brevi quindi se avrete la decenza di guardarli sono contento se siete arrivati fin qua siete dei bravi ragazzi vi mando un bacio ma mister youtube non la pensa come voi purtroppo niente è sabato sera io vorrei andare a fare una bella serata bacioni sti cazzi bisogna imparare a ricevere ragazzi tutti insieme bisogna imparare a ricevere purtroppo no no l'ho fatto male l'ho fatto male ciao 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 belli